Musica Benvenuti all'ottava puntata di Campagna Amica. Oggi vedremo le macchine da utilizzare nell'orto. Al mercato cosa fare con i cibi in scadenza? Anche questa settimana per agricoltura in cucina saremo in Val Vizdende. Per la rubrica i protagonisti conosceremo l'associazione La Strada dei Formaggi. Per la rubrica domanda risposta conosceremo le attività del GAL Prealpi Dolomiti. Ed infine il Lunario Condongino. Buona visione a tutti! Musica Oggi per la rubrica Coltiviamo Insieme con Giuliana parliamo di macchinari e attrezzature utili per la coltivazione dell'orto. Oggi, Silvia, parleremo di due strumenti molto utili per la lavorazione dell'orto. Abbiamo un motocoltivatore e una motozappa. Il primo è un pochettino più potente come motore e viene utilizzato nella fase iniziale di lavorazione e rivoltamento della terra. Mentre il secondo viene usato per le lavorazioni a seguire, una volta trapiantato, per lavorare in mezzo ai filari. Perché è un pochettino più stretto ed ha una ruota sola. A questi mezzi si possono anche applicare, diciamo, anche altri arnesi. Possiamo avere un ricalzatore che serve per ricalzare i porri, i finocchi e quant'altro. E addirittura nel motocoltivatore possiamo anche applicare un aratro volto orecchio e quindi fare anche una piccola aratura. Da tenere presente che nell'orto la parte fertile è rappresentata dai primi 30 cm di terreno. Quindi è bene sempre conservare e non andare oltre a una aratura più profonda. Ma i macchinari che ci hai mostrato sono alla portata economica di tutti? Ma io penso proprio di sì. Anche perché dobbiamo considerare l'aiuto estremo che ci danno nell'orto. Quindi sono cifre abbastanza abbordabili. Quindi consiglio sempre comunque di prendere dei mezzi che abbiano una certa solidità. Perché poi quando andiamo nell'orto la terra, i sassi chiaramente creano delle sollecitazioni e la macchina deve essere all'altezza, diciamo, di resistere a questo. E quindi direi proprio che sono molto utili, ci aiutano e anche ci incoraggiano perché ci facilitano tantissimo le lavorazioni. Che altrimenti a volte farle manualmente chiaramente sarebbero molto più costose e onerose in termini di tempo ma anche di fatica. Oggi con la nostra tutor della spesa Chiara Bortolas parleremo di cosa fare con i cibi che cominciano a presentare dei segni del tempo. Allora Silvia, abbiamo già detto nelle puntate precedenti di quanto sia importante preparare una lista della spesa prima di andare a fare la spesa. Questo perché ci permette di portare a casa i prodotti che sicuramente riusciremo a consumare. Tuttavia può succedere che magari abbiamo degli inviti, abbiamo degli impegni e abbiamo del cibo che ci avanza. Questi cibi, spesso e volentieri, alcuni di noi li buttano ma non è necessariamente l'unica soluzione. Per quanto riguarda la frutta e la verdura in particolare con la frutta, se vediamo che inizia ad avere i segni del tempo che passa possiamo sempre trasformarla in un'ottima macedonia possiamo fare una torta, possiamo preparare dei frullati, dei frappè. Per quanto riguarda la verdura, ricordiamoci sempre che una buona minestra un buon minestrone è fatto con tanti tipi di verdure diverse quindi possiamo utilizzarlo come minestrone possiamo dedicarci un po' di tempo e preparare magari del dado vegetale spesso e volentieri anche con delle verdure come il sedano noi mangiamo il gambo ma buttiamo la foglia la foglia è un ottimo ingrediente per preparare un dado vegetale tutti i nostri ingredienti possono avere una nuova vita ovviamente cerchiamo di rispettarli e di utilizzarli al meglio e di estrarre da loro tutte le potenzialità i valori nutrizionali che possono darci Siamo nell'incanto della Val Vizdende e oggi per la rubrica agricoltura in cucina incontriamo l'agriturismo Pradella Fratta Michela consigliaci un secondo piatto gustoso con tutti i sapori di questa valle la polenta formaggio fuso con la salsiccia mandiamo in cucina dalla sorella di Michela, Nella Altro piatto tipico, molto apprezzato la polenta è fatta con mais e sponcio bellunese che ovviamente uso sempre il formaggio è prodotto in azienda uso più stagionature sia fresco che anche di sei mesi così dà un gusto bello intenso al piatto e per completarlo sopra ci metto la salsiccia prodotta da noi con la nostra carne Siamo con Massimo Simionato presidente della strada dei formaggi e dei sapori delle dolomiti bellunesi Presidente, ci parli di questa associazione? Sì, è una realtà che ormai è nata da circa 20 anni abbiamo oltre 200 soci e abbiamo avuto anche un importante riconoscimento regionale per quanto riguarda la nostra attività di promozione dei prodotti tipici bellunesi che questo è quello che noi facciamo soprattutto soprattutto anche mettendo in contatto quello che sono i produttori e i consumatori cioè chi produce proprio la materia prima e chi la consuma intesa come ristoratore o come negoziante quello che noi vogliamo fare soprattutto mettere in contatto il produttore e il consumatore Circa 200 soci, qual è la tipologia di questi soci? Sono per la maggior parte dei piccoli produttori che fanno vari prodotti nel territorio bellunese oltre anche a qualche più grosso tipo la fiorita o la latte busche che sono soci sostenitori e che producono prodotti qua sul territorio però anche in questa diversità di realtà c'è sempre stata una grande voglia di fare una grande voglia di trovarsi assieme e di collaborare soprattutto Come sono dislocati nel territorio questi soci? Sono dislocati su tutta la provincia naturalmente sono concentrati sulla parte bassa che si presta di più all'agricoltura sono tutte le latterie naturalmente più molti piccoli produttori di vario tipo Formaggi di Malga Questa è una realtà straordinaria della provincia di Belluno che ha una diversità e una produzione di questo tipo di formaggi che sono eccezionali che vanno veramente conosciuti e capiti perché il prodotto può cambiare da un chilometro di distanza all'altra perché la bestia mangia erbe diverse e produce un latte diverso con cui si fa il formaggio e questa è una cosa veramente straordinaria che va veramente apprezzata e assaggiata per capirne l'importanza Binomio agricoltura e turismo Si sa bene che l'agricoltura va d'accordo col turismo assolutamente è una cosa fondamentale perché si parla sempre di turismo emozionale ma credo che mai come in provincia di Belluno si possa coniugare veramente questo termine in maniera positiva Siamo con Alberto Petterle Presidente del GAL2 Prealpi Donomiti GAL, Gruppo di Azione Locale Quali sono le sue funzioni? Il GAL è una semplice associazione da un punto di vista così giuridico però da un punto di vista sostanziale che cos'è? È uno strumento riconosciuto a livello europeo che consente di veicolare una parte di fondi europei e destinarli al proprio territorio che nel nostro caso è il territorio che va dall'Alpago fino a Feltre e consente quindi di determinare e di spendere una certa cifra che viene assegnata sulla base del nostro PSR regionale in questo territorio Da chi è composto il GAL? Gli associati sono rappresentanti degli enti pubblici sono rappresentanti delle associazioni di categorie che operano in ambito agricolo che operano in ambito commerciale e che operano in ambito industriale ma siccome i fondi del GAL sono prevalentemente di natura agricola diciamo che i nostri principali esponenti e rappresentanti riguardano proprio il settore agricolo Diamo i numeri Allora il GAL ha a disposizione per il settennato 2014-2020 7,5 milioni di euro Di questi 7,5 milioni di euro circa 3 milioni sono già stati destinati agli enti pubblici che sono i nostri partner Il restante 4,5 milioni verranno dedicati esclusivamente alle imprese Fino adesso abbiamo dato un milione di euro all'imprese extra agricole cioè tutto quello che non è agricolo e da adesso in poi invece i padroni e la parte un po' più importante la faranno proprio le nostre aziende agricole In agricoltura quali i settori interessati? Sono tutti i settori interessati perché noi finanziamo tutte le aziende agricole Quello che abbiamo cercato di fare in questi anni è stato quello di porre attenzione al settore della innovazione Infatti abbiamo appena concluso un istruttorio dove abbiamo assegnato circa un milione di euro per quattro progetti di innovazione in ambito agricolo E Dio disse La terra produca esseri viventi secondo la loro specie Bestiame, rettili, animali selvatici secondo la loro specie Così avvenne Dio fece gli animali secondo la loro specie Il bestiame, i rettili del suolo secondo la loro specie Dio vide che era cosa buona Poi Dio disse Facciamo l'uomo a nostra immagine Secondo la nostra somiglianza E Dio creò l'uomo a sua immagine A immagine di Dio lo creò Maschio, femmina li creò Ho voluto introdurre questi pochi secondi Che stiamo insieme Con le parole che Dio stesso Ha pensato per me e per ciascuno di voi Ha messo a disposizione una casa Con tutti i confort Ha messo anche i signori di questa casa L'uomo e la donna Mi piace lasciarvi proprio con questa immagine Di un uomo e di una donna Che amandosi Riescono a rendere migliore la creazione Madre terra Sorella terra Dove l'uomo e la donna Possono vivere felici Per oggi è tutto Grazie per averci seguito Arrivederci alla prossima puntata Grazie a tutti